bene un soggetto della della mia serie sul canale della Dicast Review è un po di tempo che ho preso a fare recensioni di Dicast perché fanno parte di quei modelli che a me piacciono personalmente perché dai macchine 1.24 ricorda veramente la mia infanzia c'era soltanto burago e polistine una volta quindi tra l'altro fatte malissimo rispetto alle macchine di adesso per quanto tanti dicano è malavorma della Zandaging così perché la facevano solo loro però le volte facevano schifo gli interni non si guardavano invece queste qua sono fatte veramente benino questo è un Volvo 240 della polizia svedese io per motivi affettivi vivo là quindi per me era imperdibile una Volvo della polizia per giunta svedese è come facciamo perdercela quindi per me era imperdibile come modello due parole sulla polizia svedese io li ho incrociati diverse volte la polizia è molto attiva in Svezia la polizia fa veramente un bel lavoro nel senso che aiuta a rendere il paese ancora più vivibile di quello che è perché veramente si fanno in quattro per aiutare la gente quindi io non ho mai incontrato anche in condizioni un po' di casini di tumulti di piazza e tutto quanto mai incrociato poliziotti che avessero voglia di trovare da dire ecco un po' come in tutto il mondo se tu non rompi le palle è difficile che loro rompano le palle a te invece questi qua svedesi sono particolarmente gentili cioè sono veramente persone d'oro quindi io non posso che dire di essermi trovato sempre costantemente bene costantemente bene fino a oggi in quel paese riguardo alle loro forze dell'ordine quindi trovare un modellino di una macchina questa penso che fosse in servizio nella metà degli anni 80 loro la danno per un 1986 quindi più o meno quegli anni lì da dire che in svezia lo stato differentemente da quello che vedo purtroppo che succede dalle nostre parti tende a dargli sempre la punta di diamante delle macchine cioè questo 240 che visto oggi nel 2022 è una vecchia volvo all'epoca negli anni 80 era una gran bella macchina nel senso che ce l'aveva mio zio che era direttore di banca 240 ed era una signora macchina ecco quindi non era assolutamente un bidone una panda una roba una roba improponibile un macchinone una macchina che poteva fare gli inseguimenti la polizia svedese ha sempre avuto veicoli molto interessanti le ultime che ho visto vabbè a parte adesso i v90 nuovi macchine da macchine da 80 90 mila euro macchine veramente messi gioco medio comanda ma anche prima avevano le xc 70 tra l'altro fatte proprio per loro perché avevano parecchie modifiche nel quadro nei cruscotti come i taxi sui svezia non sono esattamente vetture stradali con quattro fesserie dentro per fare diventare auto da lavoro sono proprio vetture pesantemente modificate per fare quello che devono fare anche i vigili del fuoco hanno queste volvo qui quindi il marchio svedese tra l'altro non per patriottismo l'ora perché c'è stato mi sembra un 4 5 anni fa che hanno avuto un lotto per tutta la polizia di gotteborg era un lotto di passato quindi avevano le passato nuove di trinca la passa grossa e non la passata la versione povera con gli alzacristalli a mano la passa quella veramente grossa e l'hanno tenuto anche loro per uno due anni quindi il giro di vetture è abbastanza frequente per quello che riguarda la polizia svedese girano soldini su queste cose qua lo stato non non lesina e oltretutto aiutano la gente quindi veramente si fanno in quattro cioè è un uniforme tante volte contro i poliziotti in tanti paesi si parla male io qui di questi non posso assolutamente dire nulla poi ovviamente anche loro dalle loro parti avranno i loro problemi con i criminali la gente che gliene fa di tutti i colori però per quello che ho visto io veramente un corpo che merita io volevo la loro macchina nella mia collezione di questa serie qui la welly nex è comunque il marchio è il marchio della welly in 1.24 hanno fatto anche la versione della polizia norvegese e se non mi ricordo male della polizia olandese i dettagli sono semplici perché parliamo di un modellino che costa 20 euro quindi non è non è una cosa che non penso neanche che sia mai una cosa tipo le collezioni che vanno a valere cifre folle questo questi soldi sono oltretutto un soggetto particolare perché o vi piace la svezia come piace a me o vi piacciono le macchine della polizia o vi piacciono le volvo è molto difficile che qualcuno si vada a comprare il 240 della della polizia nel svedese ha fatto bene anche l'interno gli hanno fatto anche i tipici poggia testa terribili questa macchina qua io l'ho guidata perché appunto ce l'aveva mio zio all'epoca nella alla fine degli anni 80 io la guidavo che non potevo però un giro lo volevo fare perché era un macchinone e mi ricordo sti poggia testa terrificanti con quella struttura lì poi scoperto in seguito che esistevano i cuscini da mettere insomma ma neanche sui svezzi erano così diffusi cuscini c'era una roba che si comparava poi come aftermarket e probabilmente anche bella costosa era una griglia poggia testa che serviva per motivi di sicurezza in caso di tamponamento per evitare agli occupanti il colpo di frusta colpo di frusta che può creare veramente dei bei danni invece la volve è stata la prima nell'ottica di creare vetture estremamente devote alla sicurezza da sempre volvo ha preferito un po sacrificare le prestazioni sacrificare per modo di dire vedremo perché a discapito rispetto al fatto di creare una vettura sicura quindi loro preferivano darti qualcosa che non fosse un fulmine sono sempre state vetture che pesavano 15 quintali quindi se non di più questa la chiamano all'estero lo chiamano the brick il mattone perché la forma del mattoncino vedete quadrata linee insomma deve proprio piacere c'è stato poi salto qualitativo con la serie successiva i 740 760 che è arrivata pochi anni dopo rispetto a questa era bellissima sembrava una macchina del futuro macchina 760 ancora una macchina attuale oggi ne girano ancora tante anche in italia noi e discretamente anche su in svezia anche se su il parco macchine onestamente viene rinnovato c'è solo roba recentissima io col volvo che ha 12 anni sono quello con la macchina più vecchia quindi trovare macchine vecchie su è difficile quando le incrociate normalmente sono ottenute benissimo o roba da collezionisti proprio dal museo messa su strada non sono proprio la macchina di quello che non non se la può permettere ecco la welly lavora molto bene decal in tampografia credo che l'unico errore che il modello possa avere sono le ruote perché da quel poco che ho visto io delle foto della svenska police bill anni 80 i cerchi dovevano essere leggermente differenti in questo caso qui la welly ha riciclato i cerchi della versione berlina con sopra logo volvo ma va bene così ripeto per il tipo di modello che è non ci possiamo lamentare la linea è presa io credo che tutti questi progetti siano stati fatti ormai derivandoli da progetti 3d perché troppo precisa cioè non è una roba dove la linea è ciccata quindi ci sono probabilmente degli errori che io non riesco a cogliere nel senso che non avendo davanti ai miei pochi il volvo 240 vero in genere questi rapporti si fanno avendo la macchina vera si possono vedere bene gli errori che vengono commessi io qui errori particolari non ne vedo ripeto modello molto carino se siete appassionati del marchio se vi piacciono le macchine della pulizia fateci un pensierino perché in questo momento si trova a poco ed è fatta bene ecco è bella veramente un bel modellino grazie alla prossima